I sindaci siano sempre dei mediatori e l'auspicio espresso da Papa Francesco nel saluto ai sindaci dei comuni italiani. Il Papa ha ricordato anche il Cardinale Pellegrino e indimenticabile arcivescovo di Torino nominato nel saluto iniziale dal sindaco del capoluogo piemontese. Papa Francesco ha spiegato che il Cardinale Pellegrino è stato una figura importante ed ha aiutato la sua famiglia a trovare lavoro nel dopoguerra. Il sindaco comunque ha insistito il Papa sia in mezzo al popolo per fare l'unità, per fare la pace, per risolvere i problemi e anche risolvere i bisogni della gente. Penso a Gesù, ha detto il Papa, in un momento della sua vita, quando era in mezzo alla folla, la folla lo spingeva al punto, dice il Vangelo, di quasi non poter respirare. Ebbene, così deve essere il sindaco con la sua gente, perché questo significa che il popolo, come con Gesù, lo cerca perché lui sa rispondere.